Ma che fai? Eh, volevo pensare la roccia Vabbè, facciamo un altro esperimento scientifico, va bene Eh, peschiamo un botto, come un Mettiti in acqua Ahahahah Mario! Oh, aspetta Ahahahah Oh, vai, sto in acqua No Catturiamo questo pesce, catturiamo Mario Nuota però Oh, no, non esageriamo Non c'è bisogno Oh, l'ho preso Ma se lo prendo, mi capisci La vita Sì, quello là, sì L'ho preso Sì, sì, mi faccio la... Mi guarda la sin Ma quelli ancora qui, stanno? Oh, sto uno qua bloccato A volo, sto Ragazzi, ho uno qua a volo, però Di casa Ma dove? Questa uno L'ho ammazzato a volo, sto Ho uno qua No, Davide Oh, ma non c'è Ma vuoi che non è lunga se lo puoi, eh? Ma lui, io ti faccio poi Non vuoi uccidere Non vuoi atterrare Ragazzi, Davide Prego Ragazzi Il cartello è morta vivo Felice di non ruotare Com'è, sto in acqua? Sì Non vuole io No Non ti vedo di bagno Oddio, ma sta stato più grande, ma non Aiuto Ma sta, ti aiuto Ah, per me, per me No No Ce l'ho fatto, eh? Mi sono zappato, no L'unica volta è probabilmente il mustivo E quindi E quindi ci perde la vita, qua No Si perde la vita Ok C'è tu subito E quindi ci perde la vita Vai, sperimento è sentibile, ma no Oh Ma chi è? E' il capo Non ci fanno ste cose No 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 Il botta Sparato Davide Svegli Davide Svegli 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 Aspetta Ti vedo Fermo Allora Dicca allontane E' pericoloso E' un po' più là Un po' più là Ok, va bene Ma fa' non ti riesco a niente Guarda Guarda Vediamo se funziona Non ha funzionato Come non ha funzionato Come non ha funzionato Ehi Ma che hai combinato E non si può ripetere Eh no Eh quando ha coltura da ingaspermi Però andiamo, però andiamo dal parrucciere Ok Ma che sei spostato? No no Qua Ho avuto dei problemi No no Ho avuto dei problemi Ma l'hai scelto tu Ma dove stanno? Nooo Secondo me E' da La guardia di finanza E' da E' da E' da E' da Mettiti qui sotto Ok Ti posso girare? Si Raga Ho dovuto venire Vedere l'operazione del mafio Alla Alla mano Raga Non li pensa a perdano te Ma non li pensa a perdano te Ancora si sta curando Lo vedi? Vai 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 Va bene Aspetta Ma dove stai? Ah ma dove stai? Mi dovete? Ah Mi dovete? Ah Mi dovete? Ah Mi dovete? Ah Ah No No Sei Ah Che c'è? Ah Ma che Chi è? Goss Più Che stiamo facendo cose più importanti Oh ma è uscito qualcosa, un fuggone dei gelati ragazzi, non c'era ieri, ma mi fai, che gusto tieni? Oh sparano! Ma sei lontanissimo sta! Sta venendo verso di voi! Eh ma il luco non sa nuotà Oh va! Morto! Non parlo! Atterratissima Bravo! Attenzione! Non l'hai preso! Guarda la va! Guarda la va! Guarda che sta facendo! Guarda che combina! Ma perché non hai preso lo sparabeto? Ma perché non ci vai a rianimare? Sta facendo! Sta facendo! Sta facendo! Sta facendo! Un aperitivo! Lo vado a pigliare o sparare bene? Corn alcol pesante! Senza di noi! C'è! C'è! Secondo me muore prima di rianimarsi! C'è una voce indollerabile! Oh c'è uno! C'è una voce indollerabile! Che cosa ho fatto! Che c'è una voce indollerabile! C'è una voce indollerabile! Tu si prende un appassonato! Ti prende un appassonato! Oh 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 oh! Oh oh oh! Ma che cazzo lo sa... Oh ma no! Facci a rianimare! Non puoi farcela da solo! No, ma a mezza la capesta Ci deve per forse rianimare Perché? Nighty night Metti il pezzo Ora arriva un colpo veloce veloce No, 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 non porta stiga No No, 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 no Mamma mia Non portai sfiga Boom e muore Io esco Non posso perdonare Chi ti ho ucciso No Ma dove cazzo la trovavo? Quello l'ho ammazzato Io l'ho ammazzato a te, ricaspe Eh, ma se ne fai presto mui Ma c'è la fila Oddio, l'ho preso L'ho preso all'ultimo Ma chi sei curando? Davanti o quello di dire Ma uno che ti stanno usando dietro, Riccardo, comunque tiene No, vabbè C'ho pochissima vita, mannaggia Riccardo ti ho preso io, minchia, oh Stavi per morire Oh Non passa la casa Nooo Ma chi è stato? Oh, non ci so Mo che muori Ti faccio vedere se ti veniamo a rianimare La ti lasciamo No Davide, c'è una qua più bella C'è pure il letto matrimoniale No Vieni Davide, no Cosa è successo? Sì E ci dispiace Però vieni Vieni, vieni, vieni L'ultima, l'ultima devi andare a cercare Vieni, stai schifo Ma come No Il letto matrimoniale Vabbè, dormirò qui La televisione Farò sonni tranquilli Speriamo se si accende Quanto accende Oh, scusa Volevo accendere Oh, no Volevo accendere Vabbè, si cambia, si cambia No Ma avete rovinato Qua ci sta andando 10 pollici Un po' piccolino Però Aspetta, fammi vedere Però è nuovo Però è nuovo Che c'è scritto sul frigorifero? Comprare latte Ok Aspetta Ma chi ha parcheggiato un po' fun Ma non ci capisco niente Iscritti in arabo Magari devono fare una partita seria però è E' in grambio E' in grambio Sì Ma non è il bambino E' che si colpiscono a mare del pancone Ci muore il bambino Oh Magari a terra di più C'è un pollo che ti attacca da dietro E' proprio pollo giù C'è un pollo 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 Dimmi Dimmi Vuoi reclutare questo botto In realtà Ma viva Vedete se riesce a reclutare questo botto Ma che se c'è la bandiera della Fiorentina qua Nooo Non è della Fiorentina Reclutano Ok Ora ne abbiamo due botte Eh ma questo è già tutte le frecce dietro la schiena qua Vabbè E' già un pollo Dimmi Salta Mi lanci dove sta quella? No no Si esatto Salta Oh mara Noo E sto atterrando Vabbè Rifacciao Anche perché Comunque Reca Sto messi hanno messo Battlefield 2042 Salta Ah Playstation Si Si Ma io ce l'ho Ce l'ho sulla Sulla Ma che? Tutti sotto le gambe Queste le gambe troppo aperte 2042 Ooooo Arrivo 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 Sì Ma cosi Io ce l'ho su Mario 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 vedi che c'è c'è i muri E chi cade dal cassero Ma c'è l'acqua No ragazzi Sto proprio quando ragazzi Sto proprio quando Sto atterrando Ma che hai fatto? Una cosa incredibile ragazzi Ma che hai fatto? Una cosa incredibile ragazzi Carmi mi vengo pure da Che cosa? Una cosa incredibile Trovo sto tutto Oh aspetta Oh aspetta se non sono salito Aspetta 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 Che cosa sta Il chiuso solo C'è la bufa Voglio vedere cosa fai Oh 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 no 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 Ma lui va la direzione Oh Signora C'è qualcuno che si spara Allora non li pensavo Ah Se lo dovesse acquistare Tove No è verso di qua Oh forse lo trovo Aspetta mi sono Lo rimonte Si spara non li pensavo Oh è quello è qua che dobbiamo scavare vediamo se ci sono la moneta siamo alla moneta siamo arrivati fino al 40